Ecco, questa era la prima parte dell'intervista, poi sentiremo anche la seconda. Un fatto strano, che manchino proprio le immagini dalle 19.30 alle 19.42. Nessuno sa dove sono finite, nessuno ha dato spiegazione. All'inizio tra l'altro ci dicevano che mancavano addirittura le immagini, cioè che la polizia non avesse immagini in stazione, come se appunto l'avvocato ha detto giustamente in stazione non ci fossero telecamere per la sicurezza come in qualsiasi altro posto. Sì, è un fatto decisamente strano, non si capisce come mai questo intervallo di 15 minuti di assenza, probabilmente perché c'è qualcosa che deve essere coperto, nel senso non deve essere visto da persone interessate al caso, come potrebbe essere l'avvocato per esempio. Cioè altrimenti non riuscirei a capire perché veramente di questa interruzione momentanea. In effetti non potrebbe esserci una spiegazione plausibile, anche perché voi tutto quello che avevate l'avete fornito. Purtroppo erano immagini fatte con i telefonini perché c'era una telecamera quel giorno ma non è stato facile usarla, anzi diciamo che si è badato più a salvare la pelle in quel momento. Sì, tra l'altro il ragazzo che aveva la telecamera è stato uno dei primi a essere colpito, quindi comunque era veramente impossibile. Una cosa veramente triste insomma, come è stata proprio gestita tutta questa cosa? E' davvero proprio la vostra caparbietà nel chiedere che venisse fatta luce su questa vicenda, credo sia stata determinante perché io dicevo prima che inizialmente la questura di Verona ha diramato un comunicato stampa in cui diceva che lui era stato colpito dai veronesi e che era stato soccorso fuori dalla stazione. La cosa fu smentita dai veronesi che fecero un comunicato in cui dissero che loro in stazione non c'erano mai venuti, peraltro tesi confermata dagli stessi Bresciani e poi i soccoritori dissero che Paolo l'avevano soccorso dentro la stazione. Quindi fu fatto un secondo comunicato in cui si diceva che era stato colpito da un sanpietrino, da un cubetto di porfido lanciato proprio da voi Bresciani. Avevano dato anche un bollettino medico, questo è scandaloso tutto questo. Ci sono anche tagliate un po' le gambe da soli perché comunque era ovvio che i medici avrebbero poi dato un bollettino medico. Esatto, avrebbero smentito la cosa. Ecco, questa è una cosa sulla perché credo che andrebbe comunque anche a vantaggio loro il voler fare luce su questa vicenda perché così si andava a colpire nel mezzo perché non si sapeva chi davvero materialmente avesse ridotto Paolo in questo stato. Credo che se anche con loro interesse invece arrivare alla verità perché chi ha fatto quello che ha fatto si assume le proprie responsabilità senza, ripeto, dover infangare tutti gli altri. Paolo, tu l'hai detto, non cerchi vendetta ma solo giustizia. Esatto, solo giustizia cerco io. C'è da dire una cosa probabilmente Milva che adesso, come abbiamo sempre detto giustamente, non vogliamo generalizzare. Nel senso come molte volte le altre persone sbagliano su di noi, sul mondo dei tifosi, degli ultras e ci giudicano tutti alla stessa maniera, stessi delinquenti, drogati, malviventi eccetera eccetera. Noi non vogliamo fare lo stesso errore e generalizzare anche sui poliziotti. Purtroppo parlando anche con altri gruppi nei vari incontri che ci sono stati e anche altre esperienze sulla nostra pelle, certi reparti probabilmente delle forze dell'ordine sono addestrati o mal addestrati nel senso che vengono date certe direttive, probabilmente mi vengono in mente certe trasferte. Adesso non voglio stare qua, però una su tutta Roma che si sa che da quando si parte si può arrivare e sicuramente qualcosa purtroppo con le forze dell'ordine. Qualche momento di tensione molto spesso succede piuttosto che in altre città. Verona una di quelle dove molte tifoserie hanno avuto problemi. Quindi se tante tifoserie, tante persone hanno avuto problemi con le stesse persone vuol dire che qualcosa comunque c'è che non funziona. Quindi anche loro purtroppo, probabilmente quel giorno lì gli è sfuggita di mano la situazione. Perché io altre spiegazioni non ce le ho, a meno che i stessi poliziotti non portino rancore verso determinate persone, verso determinate tifoserie. Cioè, faccio per dire, non fanno più la parte del poliziotto ma fanno la parte dell'Ultras, come abbiamo sempre detto noi. I poliziotti devono essere poliziotti, indossano una divisa che devono onorare. In quel caso lì, se potevano tirare fuori le pistole, probabilmente ci sparavano anche addosso in quel momento. Quindi voglio dire, in quel momento sicuramente chi doveva gestire l'ordine pubblico ha perso la testa, gli uomini di conseguenza che avevano a supporto, anche in quel momento lì probabilmente non ci hanno più capito, anche perché mal addestrati oppure addestrati con determinate direttive, cioè aprire le teste e basta. Quindi avete pagato voi le conseguenze? Esatto, che probabilmente, come diciamo sempre, potevano essere chiunque, perché Paolo è stata una vittima, potevo essere io, poteva essere lei, potevano essere tutte le altre mille persone che erano lì in quel momento. Purtroppo qua, sì, si arriverà al processo fortunatamente, e grazie a tutte queste, la nostra volontà, anche la trasmissione, i ragazzi, Paolo stesso, che non ha mai mollato. Ma deve essere un monito non solo per noi, ma per tutte le altre tifoserie che affrontano la trasferta di Verona nello stesso sistema che l'abbiamo affrontata noi, cioè con la testa, come affrontiamo sempre, tra l'altro, anche perché i riscontri con i veronesi non ce ne sono stati, i riscontri con la polizia allo stadio non ce ne sono stati, e quindi anche lì non si capisce, perché noi diciamo sempre, ci sarebbe bastato che salivamo sul treno e tornavamo a Brescia e nessuno si sarebbe fatto del male, e invece non ci hanno fatto salire sul treno. Non avevamo nessuna intenzione bellicosa, nessuna intenzione di creare problemi, anche perché non siamo stupidi, la partita era finita, non vogliamo andare in galera, né per il Brescia né per qualsiasi altra cosa, anche se nelle cose che facciamo ci crediamo, ma la galera ovviamente non va augurata a nessuno, quindi io non mi alzo la mattina e non voglio andare a pensare di fare incidenti, o di andare addosso alla polizia in nessun caso, bisogna chiedere ai poliziotti perché hanno voluto andare addosso ai tifosi, purtroppo ce lo chiediamo, perché hanno voluto ridurre in questo stato delle persone e dovranno rispondere. Dovranno rispondere, ecco l'ho detto prima, forse non si arriverà a otto condanne, cioè io mi auguro che se sia approvata la loro responsabilità, ovviamente devono pagare, vengono esatto, però bisogna più che altro capire perché è successo questa cosa qua, dopo la vendetta, già le otto indagati, il processo sicuramente è una grandissima cosa, per come eravamo partiti cinque anni fa, però il problema e la cosa fondamentale è riuscire veramente a capire perché è successo questa cosa qua, e chi deve pagare, pagherà. Noi ci auguriamo che vengano date delle risposte, allora poi peraltro c'è stata nuova, insomma si è tornato a parlare di questa vicenda quando tu hai scritto la lettera al Ministro Maroni e l'idea della lettera ti è stata suggerita, va detto perché è corretto farlo, da un giornalista di liberazione che è Checchino Antonini, che ti ha suggerito di fare questa cosa, tu l'hai fatta, da lì si è incominciato a parlare. Infatti, eravamo a una festa di radio adulto l'anno scorso, quando con Checchino abbiamo fatto un incontro con la mamma di Federico Aldrovandi, hanno organizzato un incontro in cui si parlava di te, della vicenda di Aldrovandi, e Checchino ti ha dato questa indirezione. E anche i ragazzi della radio si sono occupati molto di questa vicenda. Infatti ringrazio tantissimo anche i ragazzi della radio. Chiara, invece i giornali di Verona cosa dicono a proposito di questo fatto? Guardami, abbiamo l'articolo del tratto dal Corriere del Veneto del primo aprile, ti leggo appunto gli stragi più importanti, per la gravità delle ferite che gli vennero inferte, l'allora 28enne tifoso Lombardo perse il lavoro, ma soprattutto la possibilità di una vita normale, dato che da quello sciagurato pomeriggio per lui ogni azione, persino il più semplice gesto, si trasforma in vero e proprio calvario a causa delle sue condizioni fisiche. A tutti gli agenti che all'epoca del fattaccio dipendevano dalla questura di Bologna, che attualmente operano in svariate province italiane, dice il Corriere del Veneto, verrà contestata in aula l'imputazione di lesioni gravissime. Finalmente era ora che emergesse la volontà di far luce su quanto accaduto, ha reagito il legale di Scaroni. In aula sosterremo pure la manomissione dei filmati da parte delle forze dell'ordine. Ne mancano infatti quei famigerati 11 minuti dalle 19.30 alle 19.41, in cui il mio assistito è stato crudelmente picchiato, ha dichiarato l'Avvocato Mainardi. Quando finalmente potrà iniziare il processo, faremo valere le nostre ragioni anche sotto il profilo risarcitorio. Per tutte le sofferenze che gli sono state arrecate, le cure a cui ha dovuto deve tuttora sottoporsi, infatti Paolo non ha mai visto un solo centesimo di rimborso. Secondo il Pubblico Ministero, invece, nessuna responsabilità andrebbe attribuita agli otto poliziotti, il cui nome era stato iscritto nel registro degli indagati. Semplice la motivazione adotta dagli inquirenti per spiegare l'esito delle indagini. Nonostante le numerose testimonianze e alcune immagini filmate, non sarebbe stato possibile, a parere dell'accusa, individuare con certezza gli autori del pestaggio di cui rimase vittima Paolo, finendo poi in coma farmacologico, ritrovandosi per quasi sette mesi, ricoverato al reparto lungo dei genti di Negrar. Tra l'altro poi il Corriere del Veneto termina l'articolo con un passo della lettera di cui parlavi prima di Paolo al Ministro Maroni, dice sono stato travolto da una carica di alleggerimento del reparto Celleri in servizio quel giorno, e picchiato a sangue senza alcun preavviso motivo apparente e senza nemmeno aver la possibilità di ripararmi, denuncio allo stesso Paolo al Ministro Maroni in una lettera datata a settembre 2009. Da quel maledetto 24 settembre 2005 mi domando per quale ragione ciò avvenga e perché mi si è negata giustizia, si lamentò Scaroni. Adesso però conclude il Corriere del Veneto e la giustizia pare avergli dato finalmente ascolto. Adesso ti danno tutti ragione, Paolo. Ti danno tutti ragione, esatto. Prima avevi torto, adesso hai ragione. Va bene, c'è un altro break pubblicitario, poi sentiamo la seconda parte dell'intervista che Franca ha fatto all'Avvocato Alessandro Mainardi. Restate con noi.